19, 20, 26 e 27 marzo. Quattro giornate e quattro serate per celebrare la mostra delle Bianchetto di Fossombrone che quest'anno, in occasione della sua 38esima edizione, si trasforma in Festival del Tartufo Bianchetto e del Vino Bianchello DOP. Un nuovo format per promuovere e valorizzare un binomio unico tra tipicità dell'area forsempronese come il Tartufo Bianchetto e il Vino Bianchello. Quattro date in cui sarà possibile trovare lungo corso Garibaldi, espositori di artigianati e prodotti tipici, commercianti delle eccellenze no gastronomiche e soprattutto non mancheranno stand e ristoranti con menù ad hoc. Fossombrone rifà il look e fa partire questa manifestazione nazionale dove per la prima volta un vino ha un tartufo che lo corteggia. Oggi la presentazione ufficiale alla stampa ma anche una gara tra ristoratori di piatti e di menù che troveremo per tre settimane qui a Fossombrone ma naturalmente l'idiglio è proprio tra il vino e il tartufo dove la vigna, il bosco, il cavatore e lo chef tutti insieme riescono a regalare a questo fungo primaverile il tartufo bianchetto marzuolo tuber borchi un'identità che può nel tempo raccontare Fossombrone come una delle grandi capitali del tartufo primaverile e che guarda il futuro. È un festival che sarà anche all'insegna di convegni, show nonché supportato dalla buona tavola dei ristoratori forse empronesi che saranno veicolo della diffusione del gusto attraverso proposte di menù di tartufo a prezzi calmierati. Siamo molto contenti perché la stagione sta promettendo bene, parliamo del tartufo bianchetto, del bianchello che è un nostro vino che è stato riqualificato notevolmente negli ultimi anni. Il bianchetto è il primo tartufo dell'anno quindi siamo contenti di questa nuova apertura che c'è all'interno anche del comune, della Proloco che ci ha aiutato molto. Quindi c'è una bella sinergia proprio a livello di territorio dove sono state coinvolte anche l'AIS, sono state coinvolte tante tante persone e tante associazioni. Questa è la cosa più importante, cercare di fare gruppo per ripartire tutti insieme e dare valore al territorio fossombronesa? La nostra è una vallata di tartufi, io la definirei quattro stagioni perché in ogni stagione si trovano delle varietà di tartufo, adesso è il periodo del bianchetto, Fossombrone fa questa meravigliosa festa che sarà una forma di attrazione turistica oltre che gastronomica. Quindi è tutto un territorio che tra le coltivazioni atte a tartufo e tra, come dire, la ricerca spontanea abbiamo la possibilità di servire il tartufo 12 mesi all'anno che è una cosa abbastanza unica. Quindi è chiaro che il re è il tartufo bianco prezioso, pregiato di acqualagna, però abbiamo tanti altri tartufi che in cucina possono dirle a loro tranquillamente. Alla volta! Grazie a tutti